Sono ormai passati 20 giorni e sono ancora rinchiuso in questo posto. L'acqua ormai è contaminata e l'aria si fa sempre più rarefatta. Non mi resta molto tempo, devo concludere la missione al più presto. Qui c'è in ballo la vita di milioni di persone, compresa la mia famiglia, che ormai non più di una estremità, ha inizio ora l'operazione Idros. Oh, mio Dio. Sì, ecco. Charlie Quirico, ho una buona visuale della posizione, solo che non riesco a trovare la valvola, sede in mille coordinate. Charlie 101, la valvola di tepolizzazione è all'angolo Nord Nord Ovest. Ok, ricevuto Charlie, passo e chiudo. Ciao. 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 Grazie. 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 Charlie, non riesco a trovare la valvola. Ce n'è una qui davanti a me, ma non mi sembra quella che dobbiamo utilizzare. Charlie, 101, la valvola è vicino a te. Cerca bene. D'annunzione. D'annunzione. Adesso tutta l'acqua dovrebbe essere depurata entro una decina di minuti. L'1-0-1, obiettivo ricevuto. Pressione obiettivi vicino alla tua posizione, obiettivi di vici, ripeto, fuggire. Ricevuto Charlie, corro subito. Tiovello, sono finito. Merda, Charlie, mi sono perso. Cosa devo fare adesso? Dimmi tu qualcosa. Così circondato, raggiungi la sala di controllo e guarda se l'acqua sta depurando. Mi sai dare le coordinate della sala di controllo? Né una qua davanti è quella. Certo, c'è di dritto, è quella. Ok, ricevuto. Ok, ricevuto. Ok. Sarli, qui la persona è scelta a zero, tutto è a posto, ora dove vado? Sì, che sei attorno, scampano. Sarli, Sarli, dove cazzo devo andare? A quanto pare la missione è andata a buon fine. Non è stato poi così difficile, ma la cosa più importante è che ora posso tornare a casa, dalla mia famiglia. Che gran soddisfazione, ora nulla mi fa più paura. Grazie a tutti.